Che cos'è questa? Ma questa cosa? Questa auto. Che è questa auto? Dov'è? Dov'è la mobile? Dov'è la mobile? La mobile cosa? La Brucemobile. Nulla, l'ho venduta. Hai venduto la Brucemobile per questa auto? No, sì, con un bastone da selfie. Con un bastone da selfie? Sì, tutto sommato ho fatto un buon affare. E questa auto? Sì, nulla, ho un Suzuki 98. Eh, beh, siamo un missione per conto del Panerai. Per conto di chi? Il Panerai. Il Panerai? Il Panerai. Per che? E c'è da riportargli un tamburello. Sai, me l'aveva lasciato. È un tamburello, sai? È un tamburello. Ah, va bene. Buonasera. Siamo un missione per conto del Panerai. Chi è? il Panerai. Il Panerai. Il Panerai. Il Panerai. Il Panerai. Appunto, vedete un tambure ancora non ho visto nulla. Ci sono noi macchine. Ce l'ha lasciata a noi. Oh, oh, nanni. Noi ore che si fanno. E te la cece, vai. Però... De Nacheroid se l'ha detto lo facevo io perché lo facevo meglio. Perché mi garbava a me e lo facevo io se l'ha detto all'inizio. È poco da purtroppo. Fare tre come sempre perché tu sei geloso. E allora... A parte io... Io sono quel... Te tu sei quello più adatto, capito? Perché... Sì, però io... E volevo fare Nacheroid perché ci sto anche meglio. Gli è quello più luglio e quello più argillo, capito? Ma la Sartashio Menni... Gli era più limpido ma anche... Eh, te chi è quello meglio fa quello morto perché tu ci sei anche più... Io faccio Nacheroid e sono quello secco. Te tu fai John Belushi e sei quello grasso, capito? Ma perché? E che c'entra? Perché sono basso il grasso io, scusa. Te tu sei più tarcheato, sei quasi uguale, capito? Io sono quello secco e lo faccio io, Nacheroid. Ma te? Ma poi... E lo sanno tutti. A me è sempre che il bordo di più di Nacheroid e Ghostbuster... Ma che c'entra? E La Fortuna per Due e... 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 E tutti i film... Ma che c'entra? Lo strizza cervelli. Eccolo, capo! Ragazzi, occhio allo scalino! A TV Oio Sti cazzi Allora questa è la sala rossa di Music Farm Una realtà presente da 15 anni Sul territorio empolese Una sala prove che fornisce tutti i comfort Per i musicisti e un vero agriturismo Della musica Occhio allo scalino eh Occhio allo scalino ci si inciampa Ma chi siete delle iene? Ma che iene tu lo vedi sono Bruce Brothers Lui fa quello basso e grasso Lui invece fa quello secco e lungo Allora veramente lui doveva fare quello grasso E invece dopo avvolto piare io doveva fare quello secco Lascialo fare vai Lo fa per gelosia Via 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 Ciao ciao Oh ma il tamburo Porca miseria me ne so scordato O via o lasciagliene lì E io lo lascio qui davanti e si avvia Andiamo andiamo Allora fa venire di fare avanti e indietro Via piano all'isola 24 Cortiva la tua passione per la musica Nel posto giusto